buongiorno buongiorno ragazzi benvenuti in un nuovo video di monetine fortunati allora anche oggi andiamo a grattare un altro grattino che costa un euro allora vi ricordo ragazzi di non giocare perché sono vietati i minori 18 anni e niente ne crea dipendenza allora andiamo a vedere cosa abbiamo oggi che premio ci sarà non è male a 20 euro chissà 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 se c'è allora dobbiamo superare il 100 e io partirei dal mezzo allora dobbiamo superare il 100 20 euro sarebbe male allora partiamo con un 10 insomma partiamo con un 10 poi andiamo sotto 10 20 e andiamo a 30 andiamo a 30 allora adesso troviamo un bel 50 altrimenti la vedo dura altri 10 e andiamo a 40 allora poi andiamo avanti e però 20 40 60 chissà 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 70 e qua ragazzi dobbiamo trovare più di 30 altrimenti niente e 1 e 2 e 3 no 10 niente perdente ragazzi babbo alla prossima ciao ciao a tutti ciao